Siamo molto contenti di partecipare per un altro anno al Banco Farmaceutico. Questa iniziativa ci rende molto felici perché poter raccogliere i farmaci per chi ne ha veramente bisogno ovviamente è un'iniziativa lodevole. Oggi partecipo collaborando al Banco del Farmaco, è un'iniziativa organizzata dalla Federfarma di Bologna già da 15 anni per donare un farmaco alle persone bisognose che non se lo possono permettere. Siamo contenti, la gente risponde positivamente, si vede che capiscono che ci sono esigenze importanti da soddisfare. Io faccio parte dell'Unità Alsi ma collaborano a questa iniziativa altre associazioni della nostra città. Grazie a tutti!